signor dove vanno queste colombe la torre dove vanno dove vanno queste colombe le persone un po in giro campania 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 anche a nord campania e il nord le fate voi con le vostre mani sono merito abbiamo visto anche biglietto anche io anche le uova si si ho notato gli attestati che abbiamo fatto abbiamo lavorato insieme scusa Iano con Gennaro 5 con i cuochi chef si che non stanno spruando questi cazzo capisci ti senti chef che ha i canuccio scusa sta pure e sposo Gennarina e non mi dite i nomi suo marito come si chiama? Alberto Sorrento e ho visto che sono attestato però è più bello dirlo dalla vostra pure torre del greco veniteci a trovare è nazionale 242 veniteci a trovare le donne della pasticceria ciao a tutti ma noi giù è giù signora ma quante cose dobbiamo fare facciamo un'altra vi vengo a trovare come meccanico di fiducia no ma veniamo con la telecamera più grande no non ti ho ripreso perché non ti ho ripreso 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 è